Esteticamente ha un buon risultato adesivo, ma in quanto negativo non ha informazioni utili nella stampa. In più, all'epoca si utilizzavano carte molto 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 morbide, come l'albumina o la carta salata, per cui chiedeva che il negativo fosse veramente molto 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 tenso. Ora la nastra, ovvero si ritrasformava l'argento metallico in bioccolo d'argento, questo sale diventava sensibile alla luce, la quantità di sale in ogni singolo punto della lastra era proporzionale alla quantità di luce che aveva ottenuto nella prima spara. Per condensare un pochino d'acqua, se siamo andati a togliere. Questa è l'albuminatura della lastra, che una volta asciutta è pronta. E' quello che diceva prima Barbara giù, per evitare che si possa staccarsi durante il trattamento allo strato di collone. Si tratta esclusivamente. L'albuminatura è molto 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 delicato, questa è una sorta di collanzia naturale. Allora, dicevo prima che la prima lastra mi viene sempre male, non sta bene la prima, quindi adesso non è male, la seconda. Questa sarà una sposizione intorno a 20-25 secondi, quindi niente di eccessivamente lungo, però se ti trovi a dover fare foto in esterno, quindi trasportare la lastra da A a B, con due minuti di tragitto, con lo scatto, con il ritorno, mi c'è essere a 5-6 minuti, c'è caso e ti si senti con l'odio nell'eccessivo. Ve lo riuso a questo? Sì. Questa lastra adesso è sensibile alla luce. Vedete com'è difficile usare questo sciassino? No, non gli andate giù, eh, che non... No, 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 no. Sì, ma scusa, quella luce è lì? No, questa ancora non ha, non ha ancora aperto il traietto. Io non uso veramente tantissimo, mamma, perché voglio avere la geralezza che fa del mondo. Ok. Chissà, però, se sarà stata la risposta. Che posso scopriamo? Il massimo è stato svilupparlo con un colloquio, eh? Ecco. Però ti è successo tipo la settimana scorsa. È frustrante, perché ci mancava, no? L'acqua c'è lì nel barattolo? L'acqua c'è. Sì, bene. L'acqua c'è. E... Farsaggio al micro nero, eh? Ok. Che è che ha voglia di accendere questo con quello di destra? Sì. Ok, con quello di destra? Sì, quando inizio. Ok, così poi mi dici, mancano un minuto, mancano 30, mancano... Ok, così poi mi dici, mancano un minuto, mancano un minuto. Ok. Ogni dieci, ogni dieci. Ogni dieci. Cinquanta. Quaranta. 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 Scogliamo, lasci l'argento metallico. Quello che ci deve risultare sulla sfondo nero è un positivo decisamente sovraesposto. In effetti è molto, molto, molto sovraesposto. Residui l'argento, perché l'argento si mangia. Quando lo sviluppo è passato, ora hai visto, lui lo ha passato in un secondo momento, è venuta questa, diciamo, maglia. Iniziamo, manca i primi, i secondi del sviluppo, che sono quelle decisioni. Lo sviluppo è forse una delle cose, forse, forse è la cosa più difficile da fare. Se non è abbastanza, zuppa, se non è abbastanza regolare, regolare, bravissimo, che non c'è abbastanza altro, può succedere che lo sviluppo non vada liscio sulla latina. Così, così migliorano i miei fotografi adesso e poi i fotografi napoli intensificati. Grazie. 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 Grazie.